Mentre a noi comuni cittadini chiedono anche lo scontrino del caffè per gli accertamenti fiscali o con sospetto guardano quel rotolo di carta igienica che abbiamo e che pare troppo morbida per essere stata pagata solo pochi centesimi necessitando di una verifica è stata votata dalla Camera una legge in base alla quale per il 2013 e il 2014 i partiti riceveranno comunque i finanziamenti pubblici pari a 45,5 milioni di euro senza alcun controllo sui bilanci prima del voto finale in segno di protesta i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno lanciato finte banconote da 500 euro in aula dicendo prendetevi pure questi nel filmato noterete anche l'elegante gesto di Agostini del PD che rivolge il dito medio ai parlamentari 5 Stelle un dito medio che in realtà è nei confronti di tutti noi cittadini visto che sacrifici e accertamenti valgono solo per noi comuni mortali la casta non si tocca mai se non per concedere maggiori privilegi un saluto amici deviati e mi raccomando non perdetevi le mie prossime mini news sulle sotomizzazioni ad opera dei nostri politici almeno capirete da dove proviene quel dolorino che avete ogni volta che andate in bagno ciao